Che mio fratello ci ha anche fatto la figura del mio scemo. Dica suo fratello di farsi lavare i capelli delle api. Perché oggi gli italiani hanno una sola cosa in testa, la borsa. E lasciatemelo dire, amici, oggi la borsa attira. Una pellicola rosa. Questo film è tratto da un grosso libro di successo che è questo. Adesso faccio la prima edizione di Tenerone Vende Moda. Venite, più gente entra, più bestie si vedono. La matassa di battute frenetiche si ingarbuglia l'insegna dello spasso. Drive-In, domenica alle 20.30 su Italia 1.